Ciao a tutti ragazzi, sono SaviUltraS90 e bentornati in questo nuovo video. Oggi vi porto una partita con 20 eventi di sensibilità che abbiamo fatto tra l'altro per una challenge, quindi un video da non perdere, e oltre a questo vi voglio ricordare che proprio un paio di giorni fa è uscita la Spring Edition di Level Up, che tra l'altro adesso sto bevendo perché abbiamo un torneo stasera, che tra l'altro è anche uno dei miei gusti preferiti, e potete utilizzare per il 15% di sconto il codice SaviUltraS90. Perciò affrettatevi perché tra l'altro è un'edizione limitata e penso che duri una settimana e mezza circa, quindi ragazzi, veramente top, vi lascio al video e, bella ragazzi, lasciate un bel mi piace, bella. Allora, dobbiamo mettere noi 20-20. Ma come 20-20? Ma si può giocare 20-20? Infatti, quindi devi mettere 0-60-0-60 al moltiplicatore, invece è Blade 1 e 1-20 con 5-5, quello che uso io, praticamente. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Però, hai mai visto? Oh, ma dove va? Oh, cazzo! No, ma che è sta presa per il culo, dai! Ma io non c'entro la finestra, comunque! Ma io non muovo la mira, raga! Io faccio prima, secondo me, a muovermi per muovere la mira, cioè a muovere il personaggio. Ma sono tanti veloci! Cioè, invece di fare così, faccio così. Ma ho avuto un po' a giocare così, scusami. No, ora c'è con 13-13. 13-13 o 16-16? Però in mira no, eh! No, è mira no, è mira, è ok. È bellissimo! È per quello l'ho messo per il 60. Fuori mira! Prossimo obiettivo localizzato! Fuori mira non si... Ma va, ma sono abitu... Io non ho... Cioè, ho sempre giocato con 4-4-5-5 da 15 anni di COD. Non riesco a sentare le fine... Io non riesco a spostare la visuale, raga! Sembra... Sembra giocare dopo... Dopo 12 birre! Prossimo obiettivo localizzato! Cioè, potrei muovermi così dopo 12 birre! No, raga, non ci sto capendo niente! C'è gente, eh? No! E perché mi hai detto che c'è gente? Mi prendi per il culo! Oh, ma non riesco a fare... Non riesco a fare... Prende una taglia! Versaglio taglia contrassegnato! Uccidetelo! Fanno l'odd quella lì, vuoi, stavi? A chi spari? A chi li dà? A taglia? A questi, sì. Mi sta arrivando a una kill! Ehi, sì. Stavo già urlando! Mi arriva, fai datemi, tanto c'è l'automira, quindi li killate, cioè. Sì, ma per una che non riesco a muovere, io... Oh, fargli... Uno ha la macchina, tipo... Qua, qua. Attento... Vado qui! Atterra, atterra! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Come faccio a scappare? Come sta? Dai, l'ho rimesso a terra, l'ho rimesso a terra. Io sto morendo. Tu corri dritto per dritto, no, Nico, cioè, non ti muovi, non ti giri. Se qualcuno ti sparata dietro, lo devi chiamare, tipo... Time out! Fai la macchina, vieni con me, Nico. Questo secondo me... È lui, è lui, quello di prima. Ok, è da solo? Lo sto facendo? Sei fermato all'aria? Sì, è morto. One shot uno. Altro one shot. Era uno. Fuso sinistro in tavolo, push a collo, è l'amico di... Ma che... Mi push a... Non ha niente, la macchina. Sì, via. Col batto. Oh, ho, ho! È come sta la macchina storia, di come la mia vita è cambiata, che ha avvolto, non so se hai finito. Grazie, fate voi sta challenge, io faccio il zero kill, posto, sì. E' lì. Mi son mo... Ahia, mi sparano da là. Vanno in armi, vero, mi pare di sì. A terra, a terra. Cognizione attiva. A terra lui, eh. Guarda, mi sparano. Ottio mio. C'è una notazione che sta mirando. Ma quello è per terra, no? È ancora per terra. Non so se. UAPI, nemico, in volo. Non mi sa che sia razzato. Straccato? No, vabbè, bravo, ma che... Non ho visto, Marco, hai visto? Ah! Cioè! E si muove l'arm. Fa poco vomito. Io corro il dritto, per dritto, dai. Accetto il numero di uno, scrive Enrico. Davanti, davanti! No, vabbè. No. Fai davanti mai uno. Sono tre, sono tre, mi senti, stai. Eh, no. No, fraf, ma fortissimo. Sì, sì, sono forti. Forti, eh, mi servivano per... Non morirà. No, davanti a me. Una terra. L'ultimo da me, l'ultimo da me. Davanti a me, lì sempre davanti a te, salvia. Eh, hai rieterato uno. Ah, no, sono morto. Fai, bravi che erano bravi questi, che dei fa. Questi avevano un edit al senso, ora che no, va. Non so come non l'ho preso. Chi sopravvive, conquista la... Vinci questo scontro e torni in prima linea. Perdi... Per me è troppo, troppo. No, c'ho lui nel gulag. C'ho quello bravo nel gulag. Vado, no. Fra, ti sei fatto uccidere Wiz Khalifa. Tu che eri forte, ti sei fatto uccidere da me con 20-20 di insensibilità. Fai proprio lo schifo, te lo posso dire. Vabbè, puoi vedere pelle. No. Addio, soldi per il round-out. Ragazzi, bene. Da ospital. No, 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 no. No, fra... Vabbè, basta! Da ospital, ria. C'è anche me. Dai, perché sta fare... Per fare 0-4? Ah, che due coglioni. Ok. Movimento! Vuoi andare in downtown? No. I più forti del live sono? Eh, può essere, sì. Può essere. Basta, ma cosa vedi a fare? Basta! Fra, da downtown! No, no, non ci credo. Fra, da downtown! Fra! Basta! Basta! Fra, non ci posso... Fra, non ero niente. Non ero neanche col paracadute. O comunque, sopra la casa gialla. Non ero neanche col paracadute. Sai, guarda me. Lo diciamo di nuovo? No, giallo, 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 giallo! Dai, ma che ne va a fare? Siamo morti! Poi mi dicono che trovo i bot contro. Ma porco schifo! Oh, questi sono... Questo è fake spamage! Ma... Ma no, però, dammi i soldi, così lo resta e lo facciamo morire di nuovo. No, te lo giro, frasi. Muoio di nuovo e gli ho quitto, proprio senza dire neanche ciao. Mi fai, io sto in volo. Sopra, sopra. Fra, se mi beccano. Se sanno che sto... Sto qua e mi uccidono, io ho quitto. Sai, se muori per un giro che ride per un mese. No, vada, sto sopra, sto a 500 metri da terra. Cioè, ho 400 metri da terra. Vada, se mi uccide... Cioè, io non so più che dire. Ma non lo facciamo adesso a giocare noi. Non abbiamo niente. Mo' cade l'alto tanto, mo'. Se no, sono in 4, sono tutti sui palazzi. Vai. Pazzo Swim. Rick Boilello. Ah, Rick Boilello. Dici che siamo qua? No, sì, non lo so. Provo a cerrare uno sopra. 24 persone, ragazzi, è stasera. Sì, non... Oh mio Dio. Fra, non so se andare è meglio nell'altro... Nell'altra stanza o qua, ragazzi? Qual è l'altra stanza? Eh, quella dove stavamo prima. Questa? Sì. No, no. Quella. Quella che sta là. Vabbè, no, forse è qua. Stiamo qua, stiamo qua, stiamo qua, stiamo qua. Da cazzo sto giocando. Eh, da qua, bravo. Da qua a sinistra, qua a sinistra. Secondo me... Ci rifacciamo? Vieni, vieni, vieni. Bravo. Stiamo così? No, non lo finisco mai. Cassi, in arrivo. Te lo giuro, ho più paura. Ho super paura. Attento, qua da destra. Sì, sì, bravo, bravo, la destra. Nice. Qui, ragazzi, c'è la gente. Sì, sì, sì. Movimento! Sì, sì, sì. Cerco di guardare a destra, io. Ragazzi, guarda, tipo, non so dove. Sento passi, regà. Sì. Da me? Cazzo. No, tipo qua. Tipo qua. Movimento! Stanzino, forse. Ok, sì, probabile, probabile, probabile. Però non pusciamo, non pusciamo, non pusciamo, non c'è bisogno. Quando c'è nessuno? Perché devo pusciare io? Fra, nella stanza, in realtà. Oh, no, no, no. Stanzino, stanzino a destra, stanzino a destra. No, mi ha visto, mi ha visto, regà. Stanzino a destra, stanzino a destra. Giriamo di là, ragà. Al camion. Ma che camion, fra, ma che... Ma qua questi, quando verranno qua sopra? No, 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 no. Bombarda, bombarda, bombarda top. Bombarda, top. No, fra, non era il momento. Eh, ce la facevamo. Cash, che... Sono in tre quei da... Ma è un primo corso, ma presa me, che... Al car con il vinilo variabile. Siamo morti, eh? Siamo morti. Dai, che due coglioni. Dobbiamo giocare, c'era un po' la maschera, forse. Erano tutti via, ragazzi. Tutti a destra. Siamo andate a buttare, bombarda quelli sopra, poi chi va a pari verso di sinistra, secondo me. Per giocare sul ponte. Quelli non potevano fare altro che buttarsi. Ma girate, ragazzi, no. Bombardamento, io ho tirato il bombardamento sopra. Erola. Entro dentro. È sceso uno, Savi? Hai sentito? È sceso uno. Ma è caduto, eh? Uno l'è cracato, un altro l'è cracato, sai? Io sono di te. Io tu di me. Ma c'è... Ma c'è... S'ha visto, Lieti? Hai visto, sei davanti? Eh, sto matto. Al conto. 3-1-1. Era solo questo. Strati. 3-1-1. Tra questi erano i più forti del live. Tra questa lobby era Diamond 0-1, cacchio. Ho fatto 10 kill con 20-20. E sono proud of myself. Ciao, ciao.